Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del mondo di Beastard e oggi anche con la webcam perché ho deciso ragazzi di fare più video possibili con la webcam anche qua in Minecraft quindi eccomi qua allora, ci eravamo lasciati esattamente in questo punto qua come vedete dall'inventario l'ho un attimo svuotato e abbiamo la pietra rossa abbiamo tutti i lapislazzuli poi abbiamo gli smeraldi, i diamanti ragazzi, mettiamoli così qui come vedete ho messo giù la pietra muschiosa, il pietrisco, la targhetta, tutto quanto e dobbiamo assolutamente ragazzi adesso farci allora innanzitutto facciamo così una corazza perfetto poi ci facciamo vabbè facciamo così i gambali poi mi serve la testa ecco fatto cavolo e dammi qua allora e adesso dove sono finiti? gli stivalozzi 1, 2, 3 e 4 ecco fatto così abbiamo tutta l'armatura di nuovo in diamante perché appunto per chi non mi ha seguito nei vecchi episodi è la terza volta se non ricordo si se non ricordo male ragazzi è la terza volta che mi metto tutta la roba in diamante magari potevo farmi sinceramente una spada in diamante perché mi manca la spada perché il piccone mi pare che ce l'abbiamo ancora da qualche parte non abbiamo perso proprio tutto 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 comunque va bene così allora io adesso vorrei andare a cuocere un po' di ferro ed oro anche e poi andiamo ok questa cosa è? pietra normale vabbè ci può stare allora possiamo farlo anche qui tanto anche qui gana crafting table ecco fatto siete pronti? vai con i blocchi perché siete stati veramente in tantissimi a dirmi Beastard fai il simbolo di youtube visto che hai tanta pietra si tanta pietra buonanotte tanta si pietra rossa fai il simbolo di youtube e io ho detto ragazzi molto molto volentieri ed eccoci qua però purtroppo non mi pare che siano a sufficienza perché abbiamo oh stai calmo asino solamente 28 ne abbiamo ragazzi quindi sarà molto molto difficile e in più questa roba nera qui che vedete è la lana perché il simbolo di youtube c'è U in nero e tube sfondo rosso e scritta dentro bianca cavolo mi serve la lana bianca ma io ce l'avevo ben da qualche parte forse è sul mio galeone andiamo subito un attimo a vedere ed eccoci arrivati allora vediamo un po' in quale cesta era in questa si ecco fatto perché in questa ah beh altri due ce n'è qui ottimo qui come stiamo andando qua era pieno zeppo oh guardate che belli c'è ancora il creeper lo zombie in prigione lo zombie un altro creeper e laggiù c'è l'altro zombie investito con l'armatura in oro cioè ragazzi le prigioni della nostra nave pirata sono più piene che mai allora il simbolo di youtube io direi di farlo laggiù quindi via si io direi di farlo esattamente in questo punto qua perché la c'è la scritta gta5 potrebbe mettere il simbolo di youtube da qualche parte anche la volendo o se no qua giù lo facciamo qua raga solo che qui c'è l'aereo proprio vicino vicino possiamo farlo che dall'aereo si vede quindi magari da questo punto qua vai proviamo a costruirlo esattamente qua allora innanzitutto mangiamo qualche patatina al forno e poi prendiamo il pietrisco se li togliamo pure via questa e incominciamo allora saliamo su di un bel po' io all'inizio ragazzi quando ho letto il commento ho detto ok la scritta la faccio in acqua nell'oceano così se cado almeno cado in acqua e non e non muoio in pratica perché ragazzi se io qua muoio ok ho dormito qua l'ultima volta si si tutto quanto perfetto allora fatemi mettere un attimo io penso che questa altezza qui vada bene perché se la faccio più alta poi ci sono le nuvole che rompono le scatole e quindi facciamo un attimo così ottimo si va bene dai cercherò di non morire solamente per voi ragazzi 1 2 3 4 5 6 si io penso che possa andare così la scritta youtube allora per fare la y ragazzi come cavolo faccio così e 1 2 3 oh cavolo opp poi devo farne ancora una così 1 2 3 perfetto si ok e adesso però qua muoio no dai perfetto allora abbiamo fatto la y che non so sinceramente com'è venuta sembra la porta da football dove devono lanciare in mezzo il pallone va bene allora questa ho sbagliato cavolo perché dovevo fare la u poi così anche allora per fare la u potremmo fare così ragazzi e poi tipo farlo del doppio così perfetto 1 2 3 4 ok perfetto allora qui mi pare che sia a livello se cado di qua muoio ancora no dovrei perdere sempre 3 cuori vai così allora io manca la o anzi che cavolo ho fatto quella doveva essere una o ragazzi porca vacca dovrebbe essere una o quella allora dobbiamo assolutamente rifare tutto quanto allora qui fatemi finire un attimo ed eccomi qui allora ho fatto un piccolo taglietto ragazzi perché stavo un po' cominciando a impazzire e quindi ecco cos'ho fatto siete pronti vai eccoci qui questa qui è la scritta completa come vedete la y l'ho fatta un attimo meglio ovvero l'ho allargata di 2 nulla di particolarmente strano non mi convince tanto quel passaggio lì comunque ragazzi questa qui è la scritta di youtube se purtroppo i blocchi di pietra rossa non so ragazzi come farli adesso proviamo andare assieme no fatemi prendere un attimo altro pietrisco perché qui ne abbiamo veramente a tonnellate è stata veramente lunga da fare perché sono dovuto un attimo tornare indietro nel mio allevamento di pecore e prendere appunto altra e altra lana perché quella che avevo preso non bastava assolutamente però di pietra rossa ragazzi io ho voluto tenere questa qui devo andare a vedere se c'è rimasto ancora qualcosa nelle scorte giù nel villaggio principale possiamo dire allora siete pronti vai proviamo a mettere i cubetti rossi ole ancora un po' più in alto vai così l'ho fatta troppo alta questa cosa qui eccoci qua perfetto allora iniziamo se io metto questi cubettini rossi qua che poi da distante non sarebbe niente male allora uno due tre quattro cinque sei cioè li consumiamo tutti e vediamo poi da distante come verrebbe eccoci qua perfetto si sarebbe però da mettere eh ho sbagliato dovevo mettere la scritta cavolo un cubetto più distante perché così se no prende tutto il blocco siete pronti ragazzi io ci provo io mi lancio no col cavolo abbiamo appena preso le cose in diamante non voglio assolutamente perdere poi quasi 30 livelli di nuovo magari mi posso lanciare tipo da questa altezza geronimo vai così allora con quasi 30 cubetti noi abbiamo fatto questo pezzo che secondo me non è proprio perfetto perfetto abbiamo utilizzato quattro stack di pietra di pietra rossa io sono 100% sicuro che ne ho molti e molti altri di stack giù in fondo però secondo me così la scritta mi lascia un po' perplesso ragazzi perché se ce la faccio tutta quanta rossa poi non so se risalta bene la scritta tube o ci metto delle torce non so non so proprio ragazzi come cavolo farla quindi sarete voi a scrivermi nei commenti come farla scrivetemi qualche suggerimento io direi che per oggi il video si può concludere qua magari poi nel montaggio ragazzi questo video sarà abbastanza breve ma non preoccupatevi perché faremo tantissimi e tantissimi altri video voi continuate a suggerirmi cose da costruire scritte scrivetemi tutto quello che volete e io con calma lo andrò a creare qua nel mio mondo quindi se questo episodio ragazzi vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su se questa mia scritta ragazzi vi è piaciuta poi chiaramente toglierò tutto il pietrisco lo lasceremo fuori diciamo così a penzoloni nell'aria passate nella pagina facebook che trovate sotto in descrizione iscrivetevi al mio canale qua da Bistard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video